Buonasera a tutti, sono Marzio Sala, presidente e direttore della scuola per educatori cinofili di Affinity Dog. Stasera dico io sto con i canili. Cosa vuol dire questa affermazione? Vuol dire che il mio servizio professionale lo presto per lo svuotamento dei canili. Avete capito proprio bene. Forse sono un segnatore, non lo discuto, ma ritengo che dare il proprio servizio, ove le cose funzionino, sia troppo facile. Come si fa a svuotare i canili? Intanto creando consapevolezza. E come? Facendo cultura sulla giusta adozione. Con la consulenza per adozione. La consulenza per adozione è fatta in canile, accompagnando professionalmente il cliente e il futuro adottante a scegliere il cane giusto perché è il canile pieno di cani degni di nota. Questo servizio è proposto solo per la scelta del cane in allevamento. È richiesto da chi vuole comprare un cucciolo. Per quanto mi riguarda, una vita non si compra, ma si sceglie. La fidanzata non la compriamo. Perché il cane sì? In che cosa consiste veramente la consulenza per adozione? È una consulenza mirata e con lo scopo di portare il richiedente ad un'adozione corretta e consapevole. Non porta a scegliere il cane perché è bello, ma ad inserire il cane nel contesto giusto. Per esempio, una persona anziana non dovrebbe adottare un cucciolo, ma farsi carico di un cane anziano perché impegna meno e perché la prestanza fisica di entrambi è comparabile. Oppure, una persona pigra non dovrebbe prendersi un cane da caccia che ha molto bisogno di sgambare per soddisfare i propri bisogni, ma bensì un cane di 4 o 5 anni come cane da compagnia. Questi sono affidi mirati e corretti. Noi diamo questo servizio per aiutare le persone che hanno timore di adottare un cane in canile per via dei soliti luoghi comuni. È grande e non si affezionerà mai. Il cane di canile ha sempre dei problemi di comportamento. Chi l'ha detto? Sono tutte false verità. Adottare un cane in canile è un'esperienza fantastica e come tale deve essere vissuta. Noi vi supporteremo in questo. Se volete un parere scriveteci una mail ad info-afindidog.it Seguiteci sulla nostra pagina facebook afindidog.educazionecinofila